in fattoria c'è sempre molto da fare e i nostri contadini a bordo dei loro trattori non si fermano un attimo vuoi diventare anche tu un bravo contadino come noi allora seguici per vivere una grande avventura una giornata in fattoria alla fattoria il sole è appena spuntato e il contadino marco è già al lavoro per gli animali è l'ora della colazione che fame il pancino brontola ben detto amico tranquilli stanno arrivando i rinforzi con un bel carico di frutta e verdura ecco giulia e franci a bordo del loro trattore così la squadra dei contadini è al completo marco assegna i compiti per prima cosa bisogna portare la colazione agli animali giulia e franci vanno dalle paperelle per loro c'è dell'ottimo gran turco evviva si mangia colazione servita per le paperelle siete proprio golosone e marco dove finito sta trasportando un bel cesto di carote per l'asinello asinello va pazzo per le carote e le mangia tutte le mattine e adesso piedini sull'acceleratore gli altri animali stanno ancora aspettando e il maialino sta perdendo la pazienza l'attività in fattoria non si ferma mai giulia va dal maialino e dai coniglietti ma c'è qualcuno che deve ancora mangiare i cavalli dobbiamo portargli il fieno adesso come si fa franci ha un'idea basta usare il trattore con la benna forza marco serve la tua esperienza questa balla di fieno è gigantesca ma con un po' di impegno niente è impossibile perfetto e adesso via si va dai cavalli ragazzi ecco il vostro fieno buon appetito giulia intanto ha finito il suo giro e tutti gli animali hanno ricevuto la colazione solo la pecorella preferisce brucare l'erbetta del prato bravi ragazzi ottimo lavoro e adesso ripartiamo per una nuova avventura scopri tutti gli episodi di giochiamo davvero bravo minicma 2 2 ragazzi am bu